Ciao! Oggi vedremo insieme la seconda maglia del West Ham per la stagione 22-23, in edizione fan. Avevo già visto questa maglia ma mi è piaciuta così tanto che ho voluto ricomprarla da un altro fornitore. Seguiteci fino alla fine per vedere tutti i particolari e la vestibilità. A dopo! Il club ha rilasciato la nuova maglia Away a giugno, che sembra essere un ritorno al passato ai primi anni 90. La maglia Away dell'Umbro West Ham United 2022-23 ha un design moderno su base nera, completato da polsini delle maniche multicolori. Tutti i loghi sul fronte sono in bianco monocromatico. Ciò che rende unica la maglia da calcio Away Umbro West Ham sono i polsini delle maniche. Vantano un disegno geometrico rosa, bianco e celeste. L'ultima volta però che abbiamo avuto una maglia nera da trasferta è stata nel 2017-2018, che aveva caratteristiche celesti sulle spalle e per lo stemma del club. Bella vero? Nella mia personalissima classifica questa prende 4 stelle. Come ho detto all'inizio l'avevo già vista, ma ho voluto riprovarla, riprenderla perché mi è piaciuta tanto e volevo peraltro testare questo fornitore nuovo che sto provando da un pochino. La qualità è ottima, il costo lo vedete qui sopra, che tra l'altro include le spede di spedizione. Ecco, una cosa che mi entusiasma di questo fornitore è che la spedizione è velocissima. Questa mi è arrivata in 13 giorni. Dall'ordine alla consegna sono passati solo 13 giorni. Veramente incredibile. In descrizione, qua in basso, trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia e potete vedere sul sito la ampia disponibilità che ha. Ora vi lascio alla parte finale, quindi continuate a guardare, dove vedrete la vestibilità e le misure. Prima di farlo però, se il video vi è piaciuto, vi prego di lasciarci un like e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto, 1 metro e 75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione FUN!